Gli innovatori del food hanno finalmente una casa. A Ponte Cagnano, in provincia di Salerno, nasce Inci Boom Lab, tra i pochi incubatori in Italia a fare sintesi tra servizi di accelerazione imprenditoriale e opportunità di sperimentazione di soluzioni e idee. A inaugurare la nuova struttura Giuseppe Melara, presidente e amministratore delegato di Formamentis Group. Un accompagnamento complessivo, sia da un punto di vista tecnico, attraverso i vari esperti che abbiamo, chef, pasticceri, tecnologi alimentari, piuttosto che tutor che seguono la parte economica per la strutturazione del business plan, e sia l'accompagnamento da un punto di vista finanziario, cioè accompagniamo le start-up per trovare le opportunità che possono poi creargli le condizioni finanziarie per poter portare avanti la loro attività. In occasione dell'inaugurazione è stata lanciata la Cullio Ci Credo, pubblicata sul sito di Inci Boom Lab, rivolta a imprese costituite o in fase di costituzione, che intendono sviluppare soluzioni di prodotto e di processo legate al mondo del food tech. A parlarcene Deborah Morriello, coordinatrice di Inci Boom Lab, e Tommaso Donofrio, advisor di Inci Boom Lab e board member di Demetra Holding. La call è rivolta a giovani talenti, quindi chiunque abbia un'idea nell'ambito del food può candidarsi direttamente sul nostro forum online e presentare la propria idea. Qui dentro tutta la fase di costruzione di un business plan viene completata dalla fase di ideazione fino alla fase di sostegno finanziario e quindi di accesso definitivo al mercato. Dopo la selezione, che avverrà entro il 15 aprile, le start-up accedono a un programma di 12 settimane, durante il quale hanno la possibilità di consolidare il proprio modello di business. Enzo Vizzari, coordinatore scientifico di Inci Boom. Crescere, crescere, crescere le professionalità, farle crescere a tutti i livelli, tutto quello che sta prima di ciò che viene somministrato al ristorante. Soddisfatta per questo progetto l'assessore regionale Valeria Fascione. È uno strumento di sviluppo locale, di sviluppo territoriale, a servizio credo non solo del territorio circostante ma di tutto il territorio regionale. Ha anche un'esperienza unica a livello nazionale. Noi siamo vicini alle strutture che parlano di innovazione, che fanno innovazione.